E' Dano De Rosa, sindaco del cambiamento! Auguri! Questa è un'azienda seria. Noi non costruiamo mica delle cappannine di fango in Africa. Dietri personale. Chi se ne frega! Io sono di Saronne. Che cos'è questa pubblicazione? E' questa sua figlia che si sposa. Tuo figlio si sposa. E chi è lei? E' un influencer. Ah, è un medico. Pensi come piccolo il mondo. Cioè, per me, per lei e la sua taglia. Scommetto che lei sceglie la destra, vero? Io seguo il Nord. Sei del Nord e pure ricco! Io ho trovato un sistema per... Per far saltare direttamente il matrimonio. Ma magari. Madonna, mi piacciono le donne come lei. Beh, le profiterò. Dolci, ma con le palle. Punto primo, albero genealogico. Punto secondo, esame del DNA. Punto terzo, la finina penale. Si ricorda? Lavorare meno, lavorare tutti. Quella detta sta stronzata. O sindaca. Quello di prima. Ma sei dai fin di Totò che non c'è più la legge a Milano. Quando voi avete surriscaldato il pianeta col vostro ragù. Gli uomini veri sono quelli che ammettono di aver sbagliato. Cicerone. No, questo è il gattuso. È tutto. Un saluto amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Il 24 gennaio uscirà nelle sale italiane una commedia da non perdere. Si chiama I compromessi sposi. A presentarla qui oggi sono venuti Valeria Bilello, ovviamente cominciamo da cavalleria, insomma dal personaggio femminile. E poi Francesco Micichi che è il regista. E Diego Abbadantono. Benvenuti. Grazie. Benvenuti al Corriere dello Sport. Allora, prima di addentrarci in tematiche sportive che ovviamente non mancheranno in questo contesto, parliamo del film. Allora, la trama, insomma, brevemente. Poi casomai me la racconti tu così mi dici pure fino a che punto possiamo arrivare. Vediamo cosa hai capito. Vediamo cosa hai capito. No, vediamo cosa hai capito. No, se mi fai questa domanda già mi metti un po' sul chi va là. Allora, praticamente ci sono questa coppia di giovani ragazzi che decidono di sposarsi e i genitori non la prendono benissimo. Non sono così convinti. Non sono così convinti, diciamo. Ci sta Vincenzo Salemme che è un altro grande protagonista del film. Tipo Giulietta Romeo, tipo i Promessi Sposi. Una sorta, esatto. Tipo i Promessi Sposi. Esatto. C'è Vincenzo Salemme che è un altro dei protagonisti del film, che è il sindaco di questa... E questo posto è per lui che dovrebbe arrivare. Esatto, lo stiamo aspettando, non so se arriverà per tempo. E invece c'è Diego che è un grande imprenditore del nord di Milano, milanese, giusto? Allora, va, 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 va. Mi fermo qua perché sennò poi spoleriamo e non so quanto possiamo andare avanti. Allora, cominciamo dal regista. Allora, Francesco. Allora, si accetta qualsiasi compromesso per la felicità dei figli, vero o no? In questo film mi sembra, insomma, perché i genitori non mi sembrano molto felici di questa cosa. Sì, non sono felici però hanno le loro ragioni. Questi sono due ragazzi di 19 anni che decidono dall'oggi al domani di sposarsi. Quindi non è che proprio sbagliano del tutto a non volere che si sposino. Poi in particolare il personaggio di Diego dice, ma pensiamoci un attimo, riflettiamo, non è detto che sia la scelta giusta a quest'età. Quindi non è sbagliato. Poi però sono gli stessi genitori e non solo i genitori che capiscono che qualche compromesso nella vita si può fare e che quindi per la felicità dei figli e perché è un amore vero, forse chissà. Forse chissà, però c'è da dire una motivazione, sulla carta è perfettamente logico non essere d'accordo perché mi sembra incauto sposarsi dopo poco tempo che ci si conosce, proprio nella vita, sto parlando nella vita quotidiana. Quindi io sarei uno che dice a mio figlio o a mia figlia, dico stiamo attenti, aspetta un attimo, piuttosto stai assieme a questa persona con un po' di tempo, poi se è consolidata. Però nel film invece c'è anche un rapporto fra me e Saleme che non è idilliaco, cioè non mi è proprio simpatico Saleme e io non sono simpatico a lui. Quindi una motivazione base è anche quella e c'è poi una considerazione anche di mentalità, di ideologia e poi soprattutto il fatto che uno è del sud e uno del nord. Questo crea sempre un certo conflitto. Rido perché spieghiamo, non l'ho chiesto, perché sei nelle retrovie? Perché sei finito nelle retrovie in questa intervista? Perché volevo lasciare il posto a Saleme qua davanti, poi perché il divano non... Quindi se non viene è colpa di Vincenzo. Beh se non viene rimane al posto, però è più bello così, anche vedo dall'alto, c'è un altro punto di vista, anche ti basso i manifesti, qua vedo dei laurenti sulla mia sinistra. Poi ci arriviamo, poi ci arriviamo. Sempre in famiglia. Invece il tuo ruolo, Caracca, è quella della... tu sei la figlia, giusto? Sono la sorella maggiore del compromesso sposo. Del compromesso sposo. E tu parli nella scena più bella, lo dico perché si vede anche nel trailer, una delle scene molto divertenti perché si ride tantissimo in questo film. Tra l'altro non so se l'avevo detto. E quella dell'influencer. Insomma fai vedere al papà cosa fa la sposa, un influencer è lui che la scambia per un medico, giusto? Esattamente, è una delle scene dell'inizio del film in cui appunto cerco di spiegare a papà che cosa fa questa futura compromessa sposa. anche se appunto i genitori non capiscono immediatamente quale sia la professione dell'influencer, giustamente, perché insomma non è facile. Ci mette un po' però poi anche quando capisce non è contento per niente. Però è uno che guadagna dei soldi facendo vestire la gente per telefono. Ancora non ha capito. Più o meno. Ancora un po' gli sfugge, diciamo. Gli sfugge ancora un po' più. Beh, per uno che in genere pensava che si andasse a lavorare per fare dei soldi, suggerire al telefono è una cosa abbastanza anomala. Eh sì. Anche se è molto redditizia, quindi questo mi fa piacere perché... Beh, insomma, siamo nel momento di massima... Fare in famiglia uno, nel fin dico fare entrare in famiglia uno che guadagna parecchio è sempre interessante, insomma. Per un imprenditore, per un imprenditore, per la mentalità dell'imprenditore.